Il Movimento 5 Stelle dice no, i pidini si astengono, Sicilia Futura sostiene le scelte della maggioranza sperando impossibili correttivi futuri. Nonostante il frammentato quadro, dopo mesi di confronto sterratissimo, la Commissione Sanità Lars dice sì alla rete ospedaliera varata dall'assessore regionale Ruggero Razza. E mentre il provvedimento si appresta a volare al Ministero della Salute a Roma per la ratifica, c'è chi spiega le ragioni della propria posizione. Il decreto, seppur apprezzabile in alcune parti, non risponde appieno all'esigenza dei territori. Per questo abbiamo deciso di astenerci durante la votazione finale del provvedimento alla dichiarazione dei parlamentari regionali PD presenti in Commissione Giuseppe Arancio e Franco De Domenico. Il PD in Commissione aggiungono al lavorato per dare un contributo concreto alla stesura di un piano che rispondesse all'esigenza di tutti i siciliani ed in particolare di coloro che vivono le zone disagiate, isole e territori montani. Il testo appena esitato, invece, consentirà sì di attivare le procedure di mobilità del personale e di bandire nuovi concorsi, ma non risolverà molte delle criticità emerse durante il confronto con le realtà locali che avrebbero dovuto avere una maggiore considerazione. La scelta di supportare la nuova rete ospedaliera, commenta invece Beppe Picciolo, segretario regionale di Sicilia Futura, nasce perché sostanzialmente questa rispetta l'impianto della bozza di quella precedente, un atto dovuto per una sanità da troppo tempo commissariata e precarizzata. La parola per la sostenibilità economica passa ora al Governo nazionale con la speranza, prosegue Picciolo, che si possa aprire ad ulteriori miglioramenti trovando le soluzioni più corrette per quelle realtà presenti ad esempio a Ragusa, Trapani o nella stessa Messina con l'ospedale Papardo ancora bloccato sul Dea di primo livello.